Allora, nel modulo 4-2-3-1, il ruolo di sottopunta verrà preso da Zelischi, verrà preso da qualcun altro della Rosa, oppure si è pensato a qualche nuovo acquisto? Noi giochiamo 4-3-3, per cui... Però Alessia voleva capire pure se ci fosse qualche variabile. Esatto, anche con Mertens. Volevo scherzare, Alessia, mi scusi. Quali sono i suoi preferiti? Io vorrei Mertens per tutta la vita. Mertens è sicuramente uno adatto a ricoprire quel ruolo, come lo è Zelischi, come lo è Elmas, come ci sono altre possibilità. In questo momento qui Mertens non è con noi, per cui cercheremo di trovare per il momento soluzioni alternative. Però il 4-2-3-1 è un buon modulo. Grazie. Grazie.